Allora, io volevo semplicemente dire che sono con Nino Di Matteo, vi sto facendo questo selfie video dal camerino e sto girando squadra antimafia dove interpreto un mafioso, però questo è il lavoro, faccio l'attore quindi mi capitano queste cose, però lo interpreto sempre col senso di responsabilità. Ecco, Nino Di Matteo, che cosa dire su Nino Di Matteo? Potremmo dire tantissime cose, ma io mi soffermerei su un'unica cosa, sul nome di Nino Di Matteo, io sono napoletano, come non posso non amare Nino Di Matteo con quel nome? Nino, cioè a Napoli per noi dire Nino è già una gioia, è già una cosa immensa, Nino. Non voglio farvi, voi ricordate chi è il grande Nino, quindi non possiamo che non amarlo, cioè a me c'è nel momento in cui uno dice Nino, lo amo. Per esempio a Napoli i nomi come Salvatore o Totò o come Bernardo o come Matteo non sono tanto amati e nemmeno a me piacciono tanto, invece Nino è un bellissimo nome. Quindi soltanto per il nome io sto con Nino Di Matteo e il 14 di novembre saremo tutti con Nino Di Matteo a Roma. E il 14 di novembre? Sì, penso di sì.